Buongiorno a tutti i tre spettatori di Medicina Facile. Negli ultimi anni è diventato un vero e proprio problema di sanità pubblica a livello mondiale. Mi riferisco all'uso e abuso di antibiotici in moltissimi casi davvero esagerato. Una situazione che ha visto scendere in campo anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha stilato il primo rapporto sulla sorveglianza dell'antibiotico resistenza. Un report che è limitato ad una ventina di paesi ma che ha già evidenziato dati allarmanti. Pensate che sono venuti fuori qualcosa come 500.000 casi di infezioni antibiotico resistenti. Cosa comporta tutto questo? Che cosa rischiamo da un punto di vista della nostra salute? Lo chiediamo al nostro graditissimo ospite. Buongiorno e benvenuto nei nostri studi al dottor Arturo Di Girolamo. Buongiorno dottore. Buongiorno dottor Cassignani e buongiorno ai telespettatori e alle telespettatrici di questa bellissima, secondo me, interessante trasmissione. Grazie dottore. Dottore Arturo Di Girolamo, infettivologo, gruppo operativo CIO, Comitato Infezioni Ospedaliere, unità operativa complessa, qualità, accreditamento e risk management. Giusto? Esatto. È una task force questa. È una task force che ha il compito di supportare un po' tutta l'azienda proprio nella prevenzione del rischio, nel mantenere una buona qualità della sicurezza delle cure e nel mio caso anche di valutare quali sono i rischi connessi alle infezioni sempre più resistenti che si acquisiscono in ambito ospedaliero soprattutto. ASL Lanciano Vastochieri. Lanciano Vastochieri. E di queste infezioni e di questa antibiotico resistenza vogliamo parlare appunto in questa trasmissione. Allora, intanto le chiedo subito, che farmaci sono gli antibiotici e perché sono inseriti tra i cosiddetti farmaci essenziali? Gli antibiotici sono dei farmaci molto particolari, io li definisco molto particolari perché sono diversi da tutti gli altri farmaci. Questa è una cosa che non viene sottolineata spesso. Mentre gli altri farmaci curano in genere una patologia, per esempio se uno ha l'ipertensione, cura l'ipertensione con un farmaco per abbassare la pressione arteriosa. Nel caso dell'antibiotico noi non curiamo direttamente una malattia ma facciamo sì che l'agente patogeno di quella malattia, che è un essere vivente anche lui, venga eliminato o venga ridotto. Quindi facciamo un qualcosa che interferisce anche con l'ecologia di tutto il nostro pianeta, se vogliamo andare in fondo. Sono farmaci molto particolari. Questa è interessante, è una cosa, un'immagine che mi porto sempre dietro, la traduzione sotto è per me perché io prendevo tre in latino alle superiori. Diciamo che la cosa più importante è che bisogna prevenirle le malattie, questo è un dato di fatto, sembra un fatto scontato ma troppo spesso si arriva a curare le malattie perché non si è fatto qualcosa di preventivo in partenza e questo vale anche e soprattutto forse per le malattie infettive che poi sono il mio campo di azione, è una cosa che mi ha sempre appassionato da molto, è una cosa che ho sempre ritenuto importante. Lei c'è la specializzazione proprio. Me la sono scelto. Un po' di storia con questa diapositiva? Questa è una storia molto, diciamo sono due diapositive che apparentemente, sono due fotografie scusate, che apparentemente sono distanti tra loro ma in realtà sono molto vicine. Fleming ha scoperto la penicillina che di fatto ha rivoluzionato la terapia delle infezioni perché mentre prima di infezioni si moriva in maniera quasi assoluta, con la scoperta della penicillina e dei successivi antibiotici le infezioni è stato possibile curare le infezioni batteriche. Darwin che a parte, che è nell'altra fotografia, è importante anche perché i batteri che ovviamente non stanno lì a guardare quello che gli facciamo, si evolvono e evolvendosi diventano in qualche modo resistenti alle terapie che noi utilizziamo, poi vedremo anche come. Certo, abbiamo un'ultima diapositiva. Sì, e questo ci fa capire qual è l'importanza dell'utilizzo delle terapie antibiotiche oltre ovviamente al miglioramento della qualità della vita. In base, diciamo, sulla retta orizzontale ci sono gli anni e su quella verticale c'è la mortalità per 100.000 abitanti. Come potete vedere, ad ogni successiva scoperta di una molecola antibiotica è associata una riduzione di questa mortalità. Riduzione della mortalità che ovviamente non è dovuta solo agli antibiotici, ma sicuramente gli antibiotici e i nuovi farmaci in generale hanno contribuito a ridurre. Vediamo all'argomento di questa puntata di Medicina Facile. Perché oggi sono meno efficaci dal punto di vista terapeutico? Se ne fa un abuso, un utilizzo scorretto, dottor Di Giro? Sì, il problema è proprio questo. Il problema è che sono sempre meno efficaci proprio per quel meccanismo evoluzionistico che porta i batteri ad essere più resistenti, ma soprattutto perché molto spesso sono stati usati nel corso degli anni in maniera, non dico sbagliata, ma sicuramente poco appropriata, tant'è che a volte vengono utilizzati per patologie che non sono quelle per cui sono indicati e questa immagine, che anche questa è un attimo da spiegare, riporta l'anno di produzione di questi antibiotici, non ne sono tantissimi, questi sono solo presi ad esempio, e il primo riscontro di resistenza. Per esempio la penicillina è stata scoperta nel 1943, è stata utilizzata, diceva prodotta, non scoperta, è stata scoperta prima, e nel 1946 dopo tre anni già si trovavano i primi determinanti di resistenza. L'eritromicina è idem, prodotta nel 1952, questa ci ha messo un po' più di tempo, nel 1988 si sono scoperti i primi batteri resistenti, però gioco forza ogni volta che si produce un nuovo antibiotico, nel giro di qualche anno si trova qualche batterio resistente. E questo ovviamente è un problema perché è un circolo quasi vizioso che va avanti da sé. E quindi bisogna produrre sempre nuovi antibiotici? Bisogna produrre sempre nuovi antibiotici, bisogna riscoprirne alcuni vecchi, questo ad esempio se vediamo diversi agenti patogeni, diversi batteri, le scherichia coli per esempio che è un batterio che provoca sostanzialmente più delle volte infezioni delle viurinarie, ha in questo momento, è un dato OX del 2015, ha in questo momento un tasso di resistenza ai fluorochinoloni che sono quelli più usati anche per le infezioni delle viurinarie, a volte molto spesso, non dico talvolta, non diciamo molto spesso comunque, a volte in maniera inappropriata, ha un tasso di resistenza che è del 40,5% nei paesi che ce l'hanno più alta. La clebsiella che è ancora peggiore come agente patogeno, arriva a un 45,9% ma addirittura arriva a un 26,7% di resistenza ai carbabenemi che sono farmaci molto più nuovi rispetto agli altri e molto importanti. Tra l'altro vedete che c'è un minimo e un massimo e sfortunatamente in quel massimo di resistenza ci siamo noi, c'è la nostra nazione insieme alla Grecia, insieme ad altre nazioni del bacino del Mediterraneo. Un'ultima diapositiva, eccola qua. E questa è la dimostrazione pratica di quello che vi dicevo, questa è una fotografia, un dato SEDC, European Center for Disease Control del 2017, che ha fatto una mappa di tutti i batteri resistenti, in questo caso la clebsiella pneumonica, vi dicevo un batterio molto importante perché comincia a essere piuttosto diffuso negli ospedali ed è purtroppo provoca delle sepsi anche molto gravi, ha un tasso di resistenza attualmente in Italia del 29,7%. E' alto questo? E' molto alto, molto alto. Rispetto agli altri paesi europei sicuramente molto alto. Ahimè, non è... Abbiamo un primato, diciamo. Abbiamo un primato negativo purtroppo. Che cosa comporta, dottor Di Girono, questo fenomeno che abbiamo definito antibiotico resistenza? E questo comporta una cosa che anche qui sembrerebbe scontata ma non lo è. Comporta il fatto che a un certo punto noi ci troviamo nella impossibilità di curare determinate infezioni, nel senso che nel momento in cui compaiono una serie di patogeni resistenti noi abbiamo sempre meno possibilità di guarire da infezioni che spesso non sono infezioni banali perché le infezioni prodotte da patogeni resistenti sono infezioni gravi. Questo è uno studio commissionato dall'equivalente del Ministero della Salute nostro, ovviamente in Inghilterra, e di fatto si è parlato per la prima volta di apocalisse antibiotica pensando che nel 2050, come stima, se non corriamo ai ripari in qualche modo, riducendo o migliorando la proprietà prescrittiva degli antibiotici, avremo un morto per patogeni multiresistenti ogni tre secondi. Quindi, insomma, uno scenario che sicuramente non è positivo. Non è positivo. Non è esagerato il termine apocalisse, secondo lei? A parte che il termine apocalisse di per sé è inappropriato perché apocalisse non significa distruzione, significa rivelazione, se vogliamo andare in fondo. Però se diciamo in termini colloquiali, no, non è esagerato perché io devo dire la verità, già in questo momento si vedono i segni di qualcosa che dobbiamo correggere e che comunque stiamo cominciando a correggere. La tendenza non è più in salita di questa resistenza, si comincia a vedere qualche miglioramento, fortunatamente. È appropriato per spaventare la società in maniera giusta per correre i pari, diciamo così. Senta, ci spiega cosa succede, come si manifesta questa resistenza? Allora, in pratica la resistenza si manifesta, come avevo detto prima, con una particolare tappa evolutiva dei microrganismi, perché i microrganismi, come tutti gli organismi viventi, tende a riprodursi e nel riprodursi si provocano all'interno del suo DNA delle mutazioni. Queste mutazioni, in qualche modo, eccole qui, questa qui si vede meglio, diciamo che un batterio ogni 10 milioni ha una mutazione genetica, ma ovviamente i batteri sono tantissimi e si replicano a un ritmo molto elevato. In presenza di antibiotici si selezionano solo le mutazioni resistenti, cosiddette resistenti. Quindi da quella cellula batterica resistente se ne riproducono altre e si crea una popolazione di patogeni resistenti a quell'antibiotico. Quindi di fatto quell'antibiotico, questo è un altro meccanismo ancora più, per certi versi, interessante, perché alcuni microrganismi, alcuni batteri, tra cui la clepsiella per esempio, hanno la capacità di trasferire il loro gene di resistenza ad altri batteri, per un meccanismo detto di coniugazione. Questo meccanismo è importante perché porta le mutazioni da un batterio che è diventato resistente ad un determinato antibiotico, ad un altro batterio che normalmente non viene indotto a diventare resistente, che però lo diventa avendo ricevuto in dono un gene che lo fa diventare resistente. Ed è una cosa che succede. E questo è l'effetto, diciamo, questo è quello che succede alla fine e quello che si vede in laboratorio. Nel momento in cui abbiamo una piastra con una coltura, diciamo con dei batteri messi in crescita, ci mettiamo dentro un dischetto contenente antibiotico, se i batteri in quella piastra sono sensibili all'antibiotico, lì intorno non ci crescerà nulla, se invece sono resistenti, come si vede nella piastra marroncina che si vede sulla destra, ovviamente i batteri cresceranno indisturbati e chiaramente quello che succede, come si dice in gergo tecnico, in vitro, succede anche in vivo. Quindi quell'antibiotico non servirà per curare l'infezione prodotta da quei batteri. Ultima diapositiva che abbiamo per questa risposta a questa domanda che le avevo fatto. E questa è, pronti per un mondo senza antibiotici, la domanda è quella perché che succede? che se noi ci ritrovassimo e fortunatamente, ripeto, in qualche modo stiamo tornando indietro ma bisogna mantenere alta la guardia, se noi avessimo una popolazione di batteri resistenti a tutti gli antibiotici, ci ritroveremmo all'era pre-Fleming, cioè ci troveremo a prima della scoperta della penicillina con tutte le ovvie conseguenze che ne conseguono. L'unico vantaggio che abbiamo è che rispetto ad allora le tecniche, la situazione socio-economico-sanitaria è migliorata, le tecniche sono più pulite, quindi magari tutti questi antibiotici che adesso utilizziamo potrebbero servire di meno, ma sicuramente non possiamo farne a meno e non ci possiamo permettere di perdere un'arma così importante. Diciamo che nell'ante-Fleming per determinate malattie si moriva. Io penso alla polmonite, io penso a quando si racconta di un'attrice di Anna Magnani che ebbe un'infezione piuttosto grave, che fu curata con le prime penicilline presenti sul mercato e fortunatamente ce l'aveva. Ma se si ricorda, quello era un momento in cui la penicillina veniva data insieme ad una sostanza che ne impediva l'escrizione urinaria e addirittura in alcuni casi si recuperava la penicillina dalle urine per poterla riutilizzare, perché adesso stiamo molto meglio per fortuna. Proviamo a fotografare anche da un punto di vista critico questa situazione. Le chiedo, c'è un'esagerata prescrizione da parte dei medici? C'è un'esagerata autoprescrizione richiesta da parte dei pazienti? Perché poi chiaramente gli antibiotici devono essere prescritti con la famosa ricetta rossa, no? Quindi diciamo che sono gli stessi pazienti che pressano, sollecitano il medico a farseli prescrivere, soprattutto per malattie da raffreddamento o le infezioni virali? Sì, questo è un problema che sicuramente abbiamo affrontato più volte nel corso degli anni ed è un problema reale. Gli antibiotici, soprattutto in alcuni paesi dell'Europa, diciamo così, sono stati utilizzati in maniera molto allegra, vorrei usare questo termine. Tra virgolette mettiamo allegra. Sì, perché non si è pensato molto alle conseguenze di questa prescrizione, mentre si sono viste le conseguenze dopo, ma addirittura molto spesso non è tanto che ci sia stata, oltre all'autoprescrizione, che ovviamente è più complicata perché l'antibiotico è sottoposto alla ricettazione medica. Però è anche vero che a volte ci sono state anche pressioni da parte dello stesso paziente a farsi prescrivere l'antibiotico, magari questo è successo in anni passati, succedeva di più in ambito pediatrico, adesso succede molto meno perché c'è una consapevolezza maggiore da parte di noi tutti, insomma sia medici sia colleghi che fanno altre specializzazioni e quindi si va un po' meglio. Però negli anni passati c'è stata. La diapositiva precedente era interessante perché praticamente il Presidente Obama nel 2014 ha messo l'antibiotico resistenza tra le priorità di sicurezza nazionale, americana ovviamente, e in America l'altra priorità di sicurezza nazionale è il terrorismo, quindi per far capire la gravità della situazione. Esatto, l'importanza. E qui si parla anche di antibiotic stewardship che è un uso appropriato degli antibiotici. Andiamo avanti con la diapositiva. Questo invece è quello che abbiamo qui in Italia attualmente, è stato redatto l'anno scorso, ma anche se ne era parlato anche precedentemente in altra maniera, però in maniera ufficiale è stato redatto questo piano di contrasto dell'antibiotico resistenza, il PNECAR, c'è questo acronimo impronunciabile, 2017-2020 in cui sono riportate una serie di azioni che ho definito, credo che siano nella slide, nella diapositiva successiva, ecco questi sono gli obiettivi, tra cui migliorare i livelli di consapevolezza, monitorare i fenomeni della resistenza, ottimizzare l'uso degli antimicrobici anche nel campo della salute animale, non solo di quella umana. Ma è chiaro che la cosa più importante è aumentare la cultura di utilizzo di questi farmaci, che sono farmaci, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, da evidenza, molto complessi da utilizzare, non sono farmaci semplici da utilizzare. Ultima diapositiva. Ultima diapositiva, qui si parla di linee guida, però in ambito zootecnico, perché in alto a sinistra vedete quel cartello che è la One Health, praticamente quella che è definita a livello mondiale come salute unica, quindi la salute delle persone, dell'uomo, la salute dell'umanità, non è solo la salute dell'umanità, ma deve andare di pari passo con la salute dell'ambiente e quella degli animali. E chiaramente anche negli allevamenti zootecnici, dove si usano antibiotici, alcune resistenze batteriche vengono proprio da lì. Qui ho dovuto tutelare la riservatezza in base alla nuova normativa, perché è importante farlo. Rispetto della privacy anche per... Di tutti, One Health, One Privacy, come si dice. Anche dell'animale, è una mucca quella. Sì, anche se non si può dire più mucca, perché sembra che sia un termine improprio. Adesso non si può dire più. Ahimè, qual è la durata ottimale della terapia antibiotica, dottor Di Girolo, se c'è una durata ottimale? Certo. Allora, la terapia antibiotica non ha una durata ottimale stabilita in genere. Nel senso, ci sono degli schemi, più o meno, ad esempio alcuni antibiotici, alcune patologie si trattano per 8-10 giorni. Penso ad esempio alcune meningiti batteriche hanno una terapia di 10 giorni. Le polmoniti possono essere variabili tra i 7, 10, 14 giorni. Siccome non c'è una durata, cioè nel senso non è possibile a priori stabilire una durata, bisogna avere di fronte il malato con la sua patologia e definire per quel malato e per quella patologia che tipo di schema utilizzare, ovviamente la durata è quella stabilita dal medico che si sta prendendo cura di quel paziente. Se il trattamento si interrompe prima, viceversa se invece l'assunzione è prolungata oltre alla prescrizione? Se il trattamento viene portato avanti per meno tempo rispetto al necessario, la cosa più probabile che possa accadere è una inefficacia del trattamento e quindi il rischio di non curare quell'infezione. Nel caso di terapie prolungate, oltre la durata stabilita per quel trattamento, il problema diventa un aumento della tossicità, diventa un'inutile esposizione ad un antibiotico che come abbiamo detto provoca anche delle alterazioni che possono essere fastidiosi. E veniamo alla domanda del titolo di questa puntata di Medicina Facile. Troppi antibiotici, cosa rischiamo? Grande punto interrogativo. Questo abuso, uso abuso di antibiotici, che cosa comporta per il nostro organismo? Allora, per il nostro organismo comporta due cose. Dobbiamo distinguere, come ho detto prima, nel caso degli antibiotici, distingue tra il danno che si fa all'ecologia ambientale, diciamo così, quindi per la circolazione di cerchi multiresistenti, da un danno che può essere dovuto proprio alla molecola stessa, nel senso che l'antibiotico è usato quando serve. Fortunatamente l'antibiotico è un farmaco che, almeno gli ultimi, non danno grossi effetti collaterali dal punto di vista, però alcuni sì, alcuni gli danno dei problemi, quindi ci possono essere anche degli effetti collaterali pericolosi. Innanzitutto il rischio più grosso è quello di alterare, più grosso, uno dei rischi è quello di alterare il microbiota umano, quello che una volta si chiamava flora batterica, ma che adesso si usa ancora il termine flora batterica, ma è preferibile usare il termine microbiota. Il microbiota umano è un qualcosa che ci, noi non siamo sterili, noi siamo pieni di batteri dovunque, se pensiamo solo al nostro intestino ci sono 500, 1000, 1500 specie diverse di agenti, di batteri e di altri, che vivono in noi, tra mezzo chilo e un chilo e qualcosa di batteri, che sono fondamentali. Sì, mezzo chilo, un chilo e qualcosa. Sì, sì, tantissimo. E tra l'altro è fondamentale perché gran parte della protezione che abbiamo anche a livello dell'intestino dipende dalla presenza di questi batteri. Io dico sempre che se di colpo ci ritrovassimo senza batteri in nessuna parte del corpo saremmo esposti a una serie di problemi infettivi, immunologici e di altra natura, non da poco. Quindi il rischio è quello, innanzi, tra i rischi c'è quello di alterare il microbiota, che è ancora in una fase in cui lo si sta studiando e anzi in questa fase bisogna anche stare attenti a quando si parla di microbiota, di che cosa si parli, perché molto spesso alcuni ne fanno un uso, diciamo, improprio di questa disciplina, dello studio del microbiota. Però è importante. Altra diapositiva? Veramente questo mi ha fatto saltare sulla serie quando l'ho lessi a suo tempo, perché a lungo termine anche l'esposizione a pochi antibiotici favorisce la presenza di batteri resistenti all'antibiotico, ad esempio nell'intestino, fino a tre anni. Quindi una volta che noi abbiamo alterato questo microbiota, anche forse anche più, per diversi mesi e anche per diversi anni si possono avere dei ceppi resistenti che... Tre anni sono tanti. Sono tanti, sì, sono tanti veramente. Altra diapositiva? E questi sono ovviamente schematizzati, non sono voluti andare molto nello specifico, però per esempio nel caso delle terapie antibiotiche ci sono manifestazioni cutanee, ad esempio eritemi o addirittura forme di orticaria, fino ad arrivare allo shock anafilattico, che è la conseguenza più grave di un'allergia ad antibiotici. Molto rara, ma lo shock anafilattico, come sappiamo tutti, è potenzialmente mortale, quindi bisogna sempre essere attenti a quando si somministra un antibiotico, se ci sono allergie o altro, ma è chiaro che ripeto, sono forme piuttosto rare. Le altre due forme, la Steven Johnson che si legge lì e la Necrosi di Lyell, sono anche delle forme molto gravi, ci sono proprio dei distacchi cutanei, sono piuttosto rare e molto gravi, però vanno tenute presenti in ogni caso. E poi c'è l'anemia emolitica. C'è l'anemia emolitica con alcuni farmaci di vecchia generazione, soprattutto. Certo. E quindi le reazioni allergiche sono pericolosissime? Sì, bisogna... Potrebbero essere pericolosi? Bisogna sempre tenere presente che un rischio associato adesso c'è, quindi è chiaro che anche una storia di allergie nel momento in cui uno sta prendendo un antibiotico va tenuta presente per evitare di avere sorprese non piacevoli. E poi ci sono anche fenomeni tossici diretti, indipendenti dall'allergia. Infatti le stavo chiedendo proprio quella, è una tossicità elevata che ci arriva da questo uso smodato di antibiotici. Sì, perché ci sono alcuni antibiotici che hanno degli effetti collaterali, che possono essere soprattutto se presi per lungo tempo, se presi ad alte dosi. In realtà non esiste per l'antibiotico un'alta dose o una bassa dose, esiste la dose appropriata, perché un antibiotico va usato in maniera, devo dire così, come quando si fanno i dolci. La chimica deve essere tenuta ben presente, altrimenti non si fa un buon lavoro. Dovremmo avere proprio una... Sì, dovremmo avere quella diapositiva che riguarda... Questi sono i fenomeni tossici associati agli antibiotici e chiaramente, ad esempio, le polimixine, gli amminoglicosidi tipicamente possono dare una tossicità di tipo renale e la tossicità epatica è di altre molecole, quella ematica è soprattutto di una vecchia molecola, il cloranfenicolo, che non si usa più, però c'è il linezolid, che è una tossicità ematica, che è un antibiotico nuovo. Tossicità neurologica associata addirittura anche ai carbapenemi e alle cefalosporine, ad alte dosi che vengono utilizzate spesso nelle forme settiche. Ma, ripeto, non è che siccome ci sono queste tossicità non vanno usate. Vanno usati tenendo presente e vanno usati tenendo in maniera, diciamo, ben monitorato tutto l'assetto organico, diciamo, tutte le funzionalità. Moderazione e appropriatezza. Assolutamente sì. Altri danni che potrebbero comportare per il nostro organismo li abbiamo citati tutti, detti tutti. Diciamo che praticamente ci siamo come tipo di danno. L'importante è ricordare che alcuni di questi danni in effetti possono essere irreversibili, nel senso che la maggior parte di questi danni, tipo, devo dire, per esempio, anche la tossicità renale, nel momento in cui si interrompe l'uso dell'antibiotico, poi la funzionalità renale generalmente viene recuperata, quindi va monitorato il paziente in questo senso. Però, in alcuni casi, come ad esempio nelle sindrome, diciamo, di necrosi cutanea o addirittura nello shock anafilattico, il rischio di irreversibilità ci può essere. Così come nel danno uditivo, ad esempio, da streptomicina, che è un antibiotico che adesso non si usa più, si usava per la tubercolosi, il danno uditivo da streptomicina era permanente, quindi se uno aveva preso la streptomicina e era diventato, diciamo, ipoacusico, ovviamente se lo portava avanti per tutta la vita. Sono farmaci che fanno bene da una parte e fanno danni dall'altra. Immagino che questi danni siano rapportati anche all'età della persona che assume questi antibiotici, oppure no, dottor? Questo non è. Non sempre, non sempre. In alcuni casi vanno tenuti presenti. Nei bambini, ad esempio? Ma in realtà la tossicità è, la tossicità a questo tipo di farmaci è una tossicità, Allora, nei bambini ci sono farmaci che non si possono utilizzare, ad esempio le tetracicline non si possono utilizzare perché interferiscono, per esempio, con la crescita ossea o con la formazione dello smalto nei denti, non si possono usare i fluoroghinoloni nel bambino perché possono dare dei problemi a livello delle strutture tendine o di altri apparati. Quindi al di là di queste controindicazioni vere, per quelli invece che possono essere dati la tossicità è grosso modo sovrapponibile. Donne in gravidanza? Donne in gravidanza ci sono degli schemi ben precisi che vanno seguiti alla lettera perché ci sono alcuni antibiotici. In generale i farmaci in gravidanza andrebbero usati solo se veramente necessari, però quando lo sono necessari in gravidanza ci sono alcuni antibiotici che possono essere dati con una buona sicurezza, ma è chiaro che ci vuole il consulto in quel caso specialistico e diciamo di tutte e due in genere le specializzazioni. Come la chiudiamo questa trasmissione, dottor Di Gerola? Insomma, intanto gli antibiotici sono utili, utilissimi, però bisogna farne un uso moderato e appropriato. Bisogna farne un uso appropriato perché la moderazione poi viene dall'appropriatezza, e non parlo mai, quando si parla poi in questi casi si parla in termini di risparmio, ma il risparmio non viene dal fatto per esempio di spendere di meno, ma dal fatto di essere appropriati, che porta vantaggi in termini di salute e anche in termini economici. Questo è un consiglio, diciamo, una considerazione finale che ovviamente va presa un po' per quello che è, non vuole essere una sintesi di tutto perché sarebbe impossibile. Quello che in qualche modo mi preme ricordare sempre è che l'antibiotico-terapia è una terapia molto più complessa di come spesso viene definita, viene descritta. Sottovalutata. A volte viene sottovalutata e a volte ci si dimentica di qual è il danno che si può fare a distanza di questo tipo. Tra l'altro mi piace chiudere con questa immagine, questo è un bellissimo libro di fine Ottocento di Herbert George Wells. Welles credo che sia scritto. Sì, Wells. Non ho detto Wells, ma in realtà si chiamasse Welles. Però non vorrei. Questo libro è molto bello e molto regno. Poi ci hanno fatto due film, uno a fine anni 50 e uno ultimamente nel 2005, credo. La guerra dei mondi parla dell'invasione dei marziani sulla terra e i marziani alla fine che non veniano sconfitti da nessun tipo di arma, da nessun tipo di cannone o di altro, alla fine muoiono in qualche giorno perché si contaminano con i patogeni presenti sulla terra che invece a noi non facevano più niente perché come è scritto poi nella di Tascalia l'uomo ha acquisito la sua immunità e il suo diritto alla sopravvivenza proprio grazie alle infinite creature di questo pianeta. Quindi, come dico sempre, combattiamo i batteri però stiamo attenti a non combattere anche quelli tra i batteri che ci vogliono bene, che poi ce ne sono tanti. Assolutamente sì. Se rimettiamo un attimo questa diapositiva c'era l'ultima frase in fondo che secondo me è anche un po' la sintesi di tutto quello che abbiamo detto perché gli uomini non vivono e non muoiono in bar, no? Sì, questa è la chiusura del libro proprio. È la chiusura del libro. Grazie, grazie al dottor Arturo Di Girolamo. Grazie a lei dottor Castignani. Grazie a lei, è stato bravissimo, semplicissimo e speriamo di aver lanciato qualche segnale utile sulla sensibilizzazione ad un uso appropriato degli antibiotici. Grazie al dottor Arturo Di Girolamo, infettivologo, gruppo operativo CIO, comitato infezioni ospedaliere, unità operativa complessa, qualità, accreditamento e rischi e management della AS Lanciano Vasto Chiti. Grazie per essere stato con noi, grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Medicina Facile, Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post-produzione, grazie a voi telespettatori, con voi ci vediamo la prossima settimana e naturalmente tratteremo un altro argomento. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.